No, però si parla di 6-7 minuti. La beffa oltre al danno per le guardie giurate dell'ipervigile. I titolari dell'azienda Nocerina hanno versato ai lavoratori un bonifico di 232 euro. Quasi una presa in giro per chi attende lo stipendio da mesi, per chi ha sudato e fatto il suo dovere a pieno e che si ritrova senza risposta sul fronte occupazionale futuro ed economico. Per molte delle guardie giurate la notte di San Silvestro si è trasformata in una veglia funebre. davanti ai cancelli di un'azienda ormai morente con la disperazione palese negli occhi. Loro sanno che il 2014 potrebbe non presentarsi in senso positivo. Dopo aver protestato all'uscita del casello autostradale di Nocera Inferiore, dopo tante altre proteste, scioperi, incontri, si attendono ora prese di posizione certe da parte innanzitutto della prefettura di Salerno. Qualche piccola chance per sistemare le cose potrebbe ancora esserci. Intanto hanno trascorso la notte al freddo davanti a un fuoco improvvisato con le famiglie a casa, l'oro soli, armati di bicchierini di plastica e con uno spumante che non è lo champagne di altri per brindare. Lo hanno fatto comunque facendo anche gli auguri ai proprietari dell'ipervigile. Auguri a denti stretti, amari, forse ironici, sicuramente rabbiosi. Allora voglio fare gli auguri a tutti quanti, voglio fare gli auguri alla famiglia De Santis che stamattina abbiamo trovato un bonifico di 232 euro. Ci hanno fatto gli auguri di fine anno. Questa è una cosa che io voglio ringraziare alla famiglia De Santis, al direttore, alla signora Vicidomini, alla signora Scarpati. E noi siamo sempre qua. La nostra fine anno l'abbiamo fatto qua, avendo un bambino a casa di tre anni, altri colleghi siamo qua. Noi non molliamo, noi sinceramente, io penso che loro questa la vedono oppure qualcuno glielo dirà, noi non molliamo fino alla morte. Perché per un solo motivo, abbiamo i bambini a casa, noi abbiamo lavorato, loro lo sanno bene con noi abbiamo lavorato. Io spero che le istituzioni, prefetto, non so chi, pure qualche politico, perché qua non abbiamo nessuna bandiera, pure se sono venuti qua a prendere i voti, vabbè lasciamo stare. Però noi siamo qua e non molliamo. E di nuovo auguri alla famiglia De Santis. Allora, dopo la forte manifestazione che abbiamo fatto ieri all'uscita dei caselli dell'autostrada, abbiamo avuto consensi da tutti gli istituti di vigilanza d'Italia. E ringrazio, perché so che Telenuovo arriva anche via Web, perché me l'hanno detto. E quindi mi auguro che il 2014 sia un 2014 più sereno, perché nelle nostre famiglie la serenità non c'è più. E ringrazio i signori De Santis di averci dato delle tre aspettanze, aspettanze 232 euro. Mi fa molto piacere, ci ha fatto un bel regalo di elemosina. Grazie signori De Santis, i dipendenti, tutti qui. Siamo qui, in questa azienda ancora, dopo 20 giorni di lotta e continuiamo, finché non avremo le nostre aspettanze e il nostro diritto al lavoro. Ma dalle parole del prefetto sembra che qualche speranza ci sia. Io spero che il prefetto, perché è lei, diciamo noi dipendiamo dalla prefettura e dalla questura. Quindi se vogliono possono, perché volere è come il potere. Quindi loro devono fare qualche cosa. E anche le istituzioni politiche. Purtroppo ci sono state parecchie manovre, anche politiche, anche i sindacali della Cigi alle Cis e alle Guille, che non rappresentano noi e nemmeno questa Italia, perché sono le sigle sindacali che pensano soltanto al loro potere politico e basta.